Arthur Foster, al secolo Arturo Favorire, è figlio d'arte. Cioè lui non lo sa, ma l'adattamento italiano con sta mania di dare nomi inglesi ai personaggi ha affibbiato a sto quattro occhi il nome di ben due giocatori di calcio della fine dell'ottocento, che dove saranno adesso immaginiamo saranno felicissimi nell'apprendere che 150 anni dopo il loro nome è stato avvicinato a quello che di fatto è forse il più scarso dei calciatori di tutto l'anime, è finito ben presto sugli spalti a fare il tifo. Eppure la vita di Arthur era partita con grandi ambizioni, cioè grandi insomma, lui voleva giocare a calcio, ma al pari di tutta la gnuppi, la squadra della sua scuola, faceva letteralmente schifo, meglio di lui pure Bruce Harper, il che è tutto dire. Solo l'arrivo di Olly prima e Roberto Sedigno poi gli hanno conferito quel minimo di dignità che ha raggiunto il suo apice in un momento topico e professionalizzante, quando prese una pallonata in faccia salvando il risultato nell'unica gara giocata nella sua vita. Ma del resto il suo esordio nell'anime è abbastanza emblematico, lui in bici incontra Olly, sbanda, finisce nel fiume, urla, riesce a rinagare a cor uomo e Olly lo percula. E poi gli ricorda che in 10 centimetri d'acqua è un po' dura schiattare. Arthur si arrabbia, chiede a Patti di non ridare il pallone a Olly, ma le rimane incantata dalle capacità dell'oliviero prima e poi dall'oliviero stesso, visto che di fatto era sempre stata circondata ad accessi a pedali. E quindi chi se ne frega se il Foster è quasi morto. Ma parliamo dell'unico momento di gloria di questo nanetto. È una fondamentale gara tra scuole, i randaggi della New P contro gli altolocati della San Francis, contro i quali Olly gioca il primo tempo in difesa e gioca praticamente da solo, gli altri 10 stanno agli a fare la calza. Ma gli avversari riescono a dribblarlo e a tirare in porta. Il portiere come sempre è utile più o meno come l'info box su YouTube e la palla sta per entrare, ma ecco che arriva un'ombra nera che poi si materializza in Arthur Foster, che salva il risultato sullo 0-0 del primo tempo. Lui poi, mezzo svenuto, tutti a fargli festa, urrà urrà. Dopo questa gara, Foster non scenderà più in campo, ma rimarrà sugli spalti con bandierone e Patti, di cui chissà magari è segretamente innamorato, ma non lo sapremo mai. L'Arturo incarna un po' il cliché dello sfigato, piccoletto occhiali oversize pettinato con la ciotola del mulino bianco e rintronato. Però, oh, ci ricordiamo del nome. I giocatori della New Team mica li ricordiamo tutti, quindi vai Arthur, hai raggiunto l'obiettivo di essere comunque il nostro eroe, anche solo per avere preso una smusata mica male.